Musica Niente più tonnara, il decreto del Ministero dell'Agricoltura ha assegnato 14 tonnellate di tonno alla tonnara di Favignana, calata quest'anno dall'azienda Castiglione. Troppo poco per sostenere i costi dell'impianto, domani iniziano le operazioni di ritiro delle reti. Bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno, questo è il nostro servizio. Una doccia fredda che ha fatto cessare all'istante l'entusiasmo per il ritorno nel mare di Favignana della tonnara, lasciando tanta delusione e amarezza, per l'ennesima occasione persa per il territorio. Il decreto del Ministero dell'Agricoltura, che ha fissato la ripartizione delle quote tonno in divise, ha assegnato alla tonnara di Favignana solo 14 tonnellate di pescato. Troppo poco per sostenere i costi di un impianto, dai costi elevatissimi, che ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro. Una situazione che ha costretto l'azienda Castiglione, che aveva scommesso con determinazione sul ritorno della tonnara di Favignana, con un ingente investimento imprenditoriale, a tirare i remi in barca interrompendo la pesca. Proprio in queste ore la Castiglione ha comunicato alla Capitaneria di Porto di Trapani che domani inizieranno le operazioni di rimozione delle reti della tonnara di Favignana. L'impianto sarà quindi salpato nei prossimi giorni, facendo venire meno decine di posti di lavoro e le aspettative di un intero territorio. Come ovvio si tratta dell'ennesimo colpo al comprensorio trapanese e al suo già debole tessuto economico. La tonnara, dunque, salta. L'azienda trapanese puntava a non meno di 80 tonnellate di quota tonno, quantitativo necessario per garantire la sostenibilità economica finanziaria dell'attività. Ma alla Sicilia sono andate appena 14 tonnellate, il che ha reso economicamente insostenibile l'impresa economica per la Castiglione, laddove hanno evidenziato come in nessuna azienda si possa permettere il cambio in corsa delle regole del gioco, augurandosi che in un prossimo futuro il Ministero abbia maggiore rispetto per chi invece non solo per profitto, ma per cultura, tradizione e occupazione. Ci fermiamo qui con la notizia del giorno, ma io vi aspetto dopo la pubblicità. Trapani, sequestrato, pesce congelato, blitz dei carabinieri in un'attività commerciale, i prodotti ittici erano sprovvisti di etichettatura, multa di 1500 euro per il titolare. Vitello, di ritorno, i carabinieri di Custonaci hanno arrestato un uomo che dopo aver rubato l'animale in un ovile ha contattato il proprietario chiedendogli 500 euro per la restituzione. I misteri svelati, concluso presso l'Istituto Montalto di Marausa, il progetto PON dedicato alle bellezze artistiche del territorio, in mostra ai lavori degli alunni. Progetto riserva saline, proteggere e valorizzare il patrimonio della riserva naturale orientata di Trapani, questo lo scopo dell'iniziativa che è rappresentata ufficialmente lunedì prossimo. E per lo sport ancora solo parole, mentre sale la febbre per l'acquisto per il biglietto della partita di domenica, da voci vicine alla squadra abbiamo appreso che solo una piccola parte dei giocatori ha percepito lo stipendio di marzo. Le carte scoperte per l'approfondimento delle 14.20 daremo spazio alla cultura per parlare dei personaggi illustri trapanesi di cui parla Salvatore Accardi nel libro presentato ieri al Museo Pepoli di Trapani. Un bentrovato a tutti voi con le nostre notizie. Prima il furto, poi la richiesta estorsiva. Un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri di Custonaci. Dammi 500 euro e ti ridò il vitello. La vittima della richiesta estorsiva però si è rivolta ai carabinieri che hanno arrestato Giuseppe Adragna, 69 anni, residente a Custonaci, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio. Dalle indagini è emerso che a rubare il vitello da un ovile di contrada Torrebianca era stato lo stesso Giuseppe Adragna che poi ha contattato il proprietario per prospettargli lo scambio. Se non paghi, la minaccia subirà gli altri furti e danneggiamenti. Ma non è tutto perché i carabinieri, indagando sull'attentata estorsione, hanno anche scoperto che l'indagato è autore del furto commesso lo scorso mese di marzo di cavi di rame dall'impianto elettrico di una sigheria di Custonaci. Ora Giuseppe Adragna ha gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Un mazzarese di 39 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagato è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina. Ora è ai domiciliari. Operazione della polizia marittima in area portuale di Trapani dei carabinieri sequestrati i prodotti ittici. 26 kg di prodotti ittici congelati sono stati sequestrati dai carabinieri di Trapani, erano custoditi in celle all'interno di un'attività commerciale. Da un controllo è emerso che il prodotto era privo di ogni informazione a consumatore finale circa la provenienza e la tipologia del pescato. Lo stesso inoltre era conservato senza alcuna etichettatura. Il controllo, mirato a garantire la tutela di ogni fase del commercio di prodotti ittici, si è concluso con il sequestro e la contestazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro elevata nei confronti del proprietario dell'attività commerciale. Il pescato congelato è stato esaminato dal veterinario dell'Aspi di Trapani, il quale lo ha dichiarato idone al consumo umano e successivamente donato alle suore serve del Gesù povero di Trapani per destinarlo alle famiglie meno ambienti. Elezioni provinciali rimandate al 2020 interviene il governatore della Sicilia, Ennello Musumeci, che annuncia la presentazione di un nuovo emendamento. Il Parlamento, nella sua sovranità, scrive il Presidente della Regione, ha ritenuto di rinviare la data delle elezioni provinciali, già fissata per il 30 giugno. Non posso in alcun modo condividere il posticipo di un ammo delle elezioni di secondo livello e la permanenza di commissari. Sarà così dare possibilità alle comunità locali di essere coinvolte nella gestione degli enti intermedi. Per questa ragione il Governo proporrà un emendamento già nella seduta di martedì prossimo, ben prima che la norma approvata ieri possa essere promulgata. Carreggiata ristretta sull'autostrada A29 in direzione di Mazzara del Vallo nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno. Lo rende noto l'ANAS che indica il tratto interessato da interventi di manutenzione agli impianti elettrici e tecnologici tra il chilometro 0 e il chilometro 2. In direzione Mazzara le operazioni verranno svolte dalle 22 fino alle 6 del mattino e sarà pertanto necessario istituire un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia. Cambiamo argomento. Gli alunni del Rosina Salvo hanno portato in scena al Teatro Don Bosco un percorso di legalità. Dialoghi di legalità, uno sguardo dell'uomo liberato. Un progetto scolastico per promuovere il pieno sviluppo della persona per educare alla legalità attraverso la responsabilità delle proprie azioni. L'educazione alla legalità si coltiva attraverso l'integrazione in una società viva, accogliente, eterogenea, formata da individui che sappiano vedere gli altri non come un potenziale nemico ma come possibile amico. Questo è il percorso verso il quale sono stati indirizzati gli alunni dalle insegnanti Rosaria Bonfiglio e Giuseppina Messina, Francesco Balò e Emiliana Montera. La regia della performance teatrale è stata affidata ad Enzo Caputo con la consulenza musicale di Rosalba Santoro. Ci fermiamo per la pubblicità, vi aspetto tra pochissimo. I misteri svelati, concluso presso l'Istituto Montalto di Marausa il progetto PON è dedicato alle bellezze artistiche del territorio in mostra ai lavori degli alunni. Progetto riserva saline, proteggere e valorizzare il patrimonio della riserva naturale orientata di Trapani, questo lo scopo dell'iniziativa che verrà presentata ufficialmente lunedì prossimo. E per lo sport ancora solo parole. Mentre sale la febbre per l'acquisto del biglietto per la partita di domenica da voci vicine alla squadra abbiamo appreso che solo una piccola parte dei giocatori ha percepito lo stipendio di marzo. Si è concluso presso l'Istituto Giuseppe Montalto di Marausa il progetto PON dedicato alla valorizzazione dei tesori artistici del territorio. Gli alunni hanno scelto il tema I misteri svelati e hanno sviluppato una serie di temi legati alla processione del venerdì santo a Trapani. I lavori realizzati sono stati messi in mostra ai nostri microfoni la dirigente scolastica Maria Letizia Gentile. Abbiamo scelto i misteri di Trapani proprio per far conoscere ai nostri alunni quello che è un elemento distintivo del territorio. I misteri appunto che riescono a coniugare sia aspetti diciamo di alto valore artistico con aspetti altrettanto importanti da un punto di vista culturale. Noi abbiamo voluto non soltanto far conoscere questi elementi della tradizione tant'è vero che il laboratorio e i diversi moduli del PON intendevano coniugare tradizione e innovazione ma abbiamo voluto altresì utilizzare attraverso strumenti diciamo innovativi quale il linguaggio informatico multimediale questi elementi che riguardavano la tradizione il tutto per promuovere quel concetto di giovane imprenditorialità per cui i giovani che diventano depositari di questi aspetti altissimi aspetti di grande valore culturale e che fanno comunque di questi elementi una possibilità per proiettarsi in una dimensione professionale futura. Gli alunni hanno anche appreso il linguaggio settoriale attraverso l'utilizzo della lingua inglese hanno appreso quindi gli elementi dei misteri e li hanno anche tradotti in lingua inglese il tutto per creare una sorta di agenzia che diventi forma e strumento per la promozione del territorio. Amare il territorio significa saper coltivare e curare gli aspetti del paesaggio ma saper soprattutto anche conservare gli aspetti della cultura di questo territorio. Noi abbiamo cercato di coniugare i due elementi l'amore per il territorio e le prospettive di crescita futura dei nostri alunni. Siamo nella società della conoscenza e in questa conoscenza abbiamo inteso investire. Un percorso che ha riguardato anche degli aspetti pratici perché i ragazzi hanno realizzato queste statuine una ricostruzione praticamente di quelle che sono le statue dei misteri che compongono poi i misteri di Trapani ma anche altri lavori. Esatto, i ragazzi hanno vissuto questa esperienza attraverso l'attivazione di diversi laboratori che hanno consentito loro di conoscere gli elementi che compongono le opere d'arte di riprodurre attraverso la stampante 3D di riprodurre attraverso forme anche grafiche e pittoriche quindi attraverso l'attività laboratoriale cogliere gli elementi distintivi che caratterizzano i gruppi sacri dei misteri. Grande festa ieri all'istituto comprensivo Ciaccio Montalto gli alunni all'idea dell'indirizzo musicale accompagnati dai professori Michele Bucciarelli, Mauro Carpi, Rosalia Catalano e Cinzia Mistretta hanno dato prova del loro impegno portando in scena Note di Lame Terra un concerto emozionante che ha visto la partecipazione dei genitori e di tutti i docenti dell'istituto. La performance si è conclusa con un'esibizione della cantante trapanese Carmen Ferreri Bando Ambiente di Fondazione con il Sud avviato da una serie di partner locali che ha ottenuto un importante contributo nell'ambito del Bando Ambiente 2018 indento da Fondazione con il Sud che finanzia progetti esemplari per la prevenzione e riduzione dei rischi ambientali all'interno dei parchi e delle aree naturali protette e meridionali favorendo una costruttiva sinergia fra enti pubblici, associazionismo e privati. Lunedì 3 giugno alle ore 10 presso il Centro di Cultura Gastronomica Nuara si terrà una conferenza stampa del progetto alla presenza di tutti i partner fra le azioni previste importanti opere di riqualificazione della riserva la realizzazione di strumenti e percorsi guidati azioni di sensibilizzazione e responsabilizzazione delle comunità locali seminari e giornate di studio per la conservazione della biodiversità e sulle tecniche di agricoltura biologica è previsto inoltre il coinvolgimento di soggetti svantaggiati e di giovani studenti per attività di salvaguardia ambientale al fine di migliorare stili di vita e abitudini e di far loro acquisire nuove competenze professionali spendibili per il loro futuro. Un concerto domani pomeriggio con inizio alle 17.30 all'auditorium della Madonna di Fatima con musiche degli anni 70 proposto dagli Evergreen. Un concerto di canzoni di ieri e di oggi Evergreen e quindi sempreverdi perché? Perché tramite la musica che in pratica rallegra i nostri cuori ci sentiamo giovani. Sarà appunto un concerto di canzoni di ieri e di oggi saranno 20 canzoni e quindi spero di rallegrare anche i vostri cuori. Grazie. Voi siete un gruppo di appunto di diversamente giovani che si divertono facendo musica, incontri ed altro. Vogliamo ricordare anche che l'ingresso è libero e quindi tutti possono partecipare a questo momento importante di socializzazione. Devo aggiungere che questo coro lo dedichiamo ad una nostra corista Nelli Scaduto Poma che purtroppo ci ha lasciato da poco. Rinnovo delle cariche sociali ieri sera all'Unione Maestranze. Sono stati riconfermati i componenti del Collegio dei Probiviri. Carlo Gianformaggio, Mario Laudicina e Massimiliano Galuppo resteranno in carica per il Lettriennio 2019-2022. Non altrettanto unanime è stata la votazione per il nuovo del Collegio dei Revisori dei Conti dove ai tre nominativi degli uscenti si sono aggiunti altri due candidati. La precedente compagine era rappresentata da Giuseppe Di Capizzi, Giuseppe Todaro e Stefano Pecorella ai quali si aggiungono Domenico Strazzera e Bartolomeo Silleri. Dopo la votazione la nuova compagine vede riconfermato il solo Di Capizzi a cui si aggiungono Strazzera e Silleri. Alla votazione ha partecipato, seppure astenendosi, l'Avvocato Vincenzo Scontrino in rappresentanza del gruppo dell'Ascesa al Calvario che, ricordiamo, dopo l'ultima processione in polemica con l'attuale direttivo, ha scelto di abbandonare l'Unione. Ma, secondo le norme statutarie, fino al 31 di dicembre fanno parte del suo dalizio. Proprio l'Avvocato Scontrino ha sollevato qualche perplessità a riguardo della elezione di Strazzera e Silleri per i quali, sempre a norma di quanto previsto dallo Statuto, è stata contestata la non dimissione dai gruppi di appartenenza. Lo stesso rappresentante dell'Ascesa al Calvario, pur non manifestando alcuna intenzione di impugnare l'elezione, ha denunciato l'irregolarità procedurale che potrebbe anche portare all'annullamento della votazione. Tre giorni di mare, sport e divertimento a San Vito Lo Capo, dove prende il via oggi la prima edizione del San Vito Vela Fest. Alla manifestazione promosso dal Comune e dal Centro Velico Siciliano di Palermo partecipano 20 imbarcazioni d'altura. Gli equipaggi sono partiti questa mattina dal Golfo di Mondello. Il loro arrivo a San Vito è previsto intorno alle 18. Domani e domenica verranno disputate le regate lungo la costa sanvitese. Fino a domenica, inoltre, si potrà visitare il Villaggio della Vela con stand espositivi a tema nautico e partecipare inoltre a dei corsi gratuiti di avviamento alla vela con uscita in mare. Si svolgeranno laboratori di educazione ambientale per i più giovani. Adesso vediamo un po' che intenzione ha di fare questo tempo. Nel pomeriggio di oggi cielo nuvoloso con temperature comprese tra i 15 e i 20 gradi. Venti moderati provenienti da nord. Il mare sarà poco mosso. In serata ancora cielo poco nuvoloso. I venti continueranno a soffiare da nord. Per domani mattina cielo poco nuvoloso con venti moderati provenienti da nord. Le temperature minime saranno attorno ai 13 gradi, sui 19 le massime. Il mare sarà poco mosso. I venti continueranno a soffiare da nord. Per gli appuntamenti di questa sera alle 19.40 e alle 22.40 andrà in onda il nostro Tg. E adesso noi invece andiamo in pubblicità. Vi aspetto. Eccoci con lo sport. Naturalmente siamo già proiettati alla partita di domenica tra Trapani e Catania. Conosciamo intanto l'arbitro che è il signor Simone Sozza di Seregno. Saranno suoi assistenti Alessandro Pacifico di Taranto e Marco Trinchieri di Milano. Il quarto uomo invece sarà Andrea Zingarelli di Siena. E' partita questa mattina la corsa al biglietto, però intanto rimane ancora aperta la questione pagamento stipendio ai giocatori. File lunghissime, già delle prime ore del mattino. Ha preso ufficialmente il via la vendita dei tagliandi per la gara di ritorno della semifinale dei playoff tra Trapani e Catania. Un via libera, prima agli abbonati, che hanno il diritto di prelazione, potendo mantenere il proprio posto e il proprio settore, fino alle 12 di domenica con possibilità di acquistare altri tre tagliandi per altrettanti abbonati. Il tutto presentando in biglietteria l'abbonamento per la stagione 2018-2019. A mezzogiorno invece la vendita degli altri biglietti. Per gli abbonati l'acquisto può essere effettuato esclusivamente presso la biglietteria del Trapani Calcio. Per tutti gli altri invece presso i rivenditori autorizzati Viva Ticket, anche per i biglietti ridotti. Per conoscere i punti vendita Viva Ticket a Trapani basta collegarsi sul sito segnando la regione Sicilia e la provincia. Per i tifosi del Catania sono 404 i biglietti a disposizione nel settore ospiti, che possono essere acquistati a partire dalle 12 di oggi e fino alle 19 di sabato 1 giugno. Non è necessaria la testera del tifoso. I tifosi del Trapani non vogliono mancare all'evento e si stanno organizzando per fare le file nei punti vendita, come alla tabaccheria Ursi, in cui gentilmente al proprietario per ingannare l'attesa ha anche offerto le pizze. Torniamo indietro nel tempo con i ricordi, alla finale per la Serie A col Pescara o a quella per la Serie B col Lanciano. Tutti ricordi indelebili, ma ora c'è un fattore in più, c'è l'incertezza del futuro. Da fonti vicine allo spogliatoio abbiamo appreso che soltanto una limitata parte del gruppo ha percepito lo stipendio di marzo, contrariamente a quanto fatto sapere qualche giorno fa per vie informali dall'amministratore delegato del Trapani, Maurizio De Simone. Ricordate inoltre il comunicato ufficiale in cui si faceva menzione di un premio promozione molto superiore ai 500 mila euro promessi da LR in caso di raggiungimento della Serie B? Bene, anche di questo la squadra non ne ha alcuna notizia. È dilettuoso che a due giorni dalla partita più importante della stagione e dopo la magnifica prestazione di mercoledì all'interno dello spogliatoio si sia costretti a parlare in prevalenza di argomenti che poco hanno a che fare col campo. Al di là di questo però non possiamo che fare conti con i valori morali che questi uomini con la U maiuscola hanno dimostrato di possedere, riuscendo a spoderare la magistrale prova di mercoledì a Catania. Giocatori con a capo un allenatore, capaci di non arrendersi di fronte agli ostacoli calcistici e non, capaci di portare ancora sulle spalle e sulle gambe la passione della gente per questa maglia. Adesso invece parliamo di nuoto, quattro baby atleti trapanesi al campionato regionale in programma l'8 giugno a Siracusa. A Siracusa innanzitutto per divertirsi e fare esperienza confrontandosi con i loro coetani, ma anche per cullare un sogno, conquistare il titolo regionale. Trasperta a Retuseana il prossimo 8 giugno per i baby nuotatori della polisportiva Mimmo Ferrito. Aurora Buongiorno, classe 2012, Aldo Ricevuto, classe 2010, Dario Miciche, classe 2009 e Samuele Scandaliato, classe 2010, già scalpitano. Non vedono l'ora di entrare in acqua e gareggiare contro i migliori otto tempi nelle categorie stile libero d'osser farfalla di tutta la Sicilia. La più piccola della comitiva è Aurora Buongiorno, sorella del già campione regionale Marco Buongiorno, detto giuffetto, perché è solito indossare la cuffia lasciando fuori soltanto un giuffetto di capelli. A dirigere Aurora, Aldo, Samuele e Dario e il loro coach Katia Vitaggio. Il conto alla rovescia è già iniziato, 8 giugno Siracusa, riflettori sui piccoli atleti impegnati nel campionato regionale di eccellenza. Il conto alla rovescia è iniziato, 8 giugno Siracusa, Le carte scoperte, presentato al Museo Pepoli, il libro di Salvatore Accardi che racconta le storie di diversi personaggi trapanesi vissuti tra il XVII e il XIX secolo. Questo è l'approfondimento di oggi. Salvatore Accardi da anni si dedica alla consultazione delle antiche scritture sulla storia della città di Trapani, spulciando i documenti custoditi nell'archivio di Stato, tra registi notarili, apti e tutte quelle carte che raccontano secoli di storia. Ricerche che, oltre ad essere pubblicate nel suo sito trapaniinvittissima.it e su altri portali come trapaninostra.it, arricchendo il patrimonio del materiale che si può consultare online sulla storia di Trapani, hanno portato Salvatore Accardi a raccogliere i suoi studi nel libro dal titolo Le Carte Scoperte, che parla di diversi personaggi illustri trapanesi vissuti tra il XVII e il XIX secolo. Il volume è stato presentato ieri pomeriggio al Museo Peponi, nel corso dell'incontro a cui sono intervenuti Francesco D'Aleo, il professore Maurizio Vitella, il direttore del Polo Museale Luigi Biondo, oltre che lo stesso autore, che ha illustrato il volume frutto del lavoro di ricerca fatto presso l'archivio di Stato di Trapani. Per scriverla ho impiegato due anni e mezzo, per le ricerche ho preso tutto quello che sono riuscito a leggere nel corso di vent'anni frequentando l'archivio di Stato di Trapani. Sono stati dei personaggi già trattati da storici come Giuseppe Maria Ferro e l'occasione l'ho avuta per completare con anedodi o altre storie di vita trovate tra le scritture notarie e la conformità dei personaggi stessi. Sono dei personaggi, cioè le categorie che riguardano pittori e scultori, uno spadaccino in particolare, un medico che debellò la peste a Malta e a Lagoletta di Tunese e a Palermo, e poi ci sono i famosi fratelli Tipa che sono stati molto famosi in quel periodo. I personaggi illustri raccontati nel libro sono divisi per categorie, tra cui c'è quella dei mercanti, da dove emerge lo spaccato nella vitalità economica di Trapani. E tra i commercianti più attivi e di successo c'è stato Salvatore Malato. Riguardo a questi personaggi trattati, mi piace ricordare Salvatore Malato, un mercante molto scaltro, aguto, intrapendente, che percepiva l'affare a vista. Ogni giorno si regava dal notaio a fare una contrattazione che possa essere un trasporto di sala, un trasporto di cenere risolta, che tramite altre vie arrivava fino a Marsiglia, oppure i suoi incontri con le società assicuratrici francesi. Era un componente della compagnia delle Indie Occidentali a Londra, e a Londra stesso comprò un'imbarcazione che gli vendette un nobile russo. È un personaggio che per me è stato molto accattivante, di cui ho ricostruito anche determinati passaggi, perché è stato un cultore della finanza trapanese. Potremmo definirlo un berluscone dell'Ottocento trapanese, tant'è vero che ebbe in vita il piacere e il privilegio di vedere la strada in cui lui passava ogni giorno essere intitolata proprio a Salvatore Malato. Ed è un palazzo tutt'ora esistente in via Torreassa e come riferimento posso dire che sotto c'è la libreria Giunti. Il decreto del Ministero dell'Agricoltura ha segnato 14 tonnellate di tonno alla tonara di Favignana calata quest'anno dall'azienda Castiglione. Troppo poco per sostenere i costi dell'impianto. Domani iniziano le operazioni di ritiro delle reti. Una doccia fredda che ha fatto cessare all'istante l'entusiasmo per il ritorno nel mare di Favignana della tonnara, lasciando tanta delusione e amarezza, per l'ennesima occasione persa per il territorio. Il decreto del Ministero dell'Agricoltura che ha fissato la ripartizione delle quote tonno in divise ha assegnato alla tonnara di Favignana solo 14 tonnellate di pescato. Troppo poco per sostenere i costi di un impianto, dai costi elevatissimi, che ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro. Una situazione che ha costretto l'azienda Castiglione, che aveva scommesso con determinazione sul ritorno della tonnara di Favignana con un ingente investimento imprenditoriale, a tirare i remi in barca interrompendo la pesca. Proprio in queste ore la Castiglione ha comunicato alla Capitaneria di Porto di Trapani che domani inizieranno le operazioni di rimozione delle reti della tonnara di Favignana. L'impianto sarà quindi salpato nei prossimi giorni. Facendo venire meno decine di posti di lavoro e le aspettative di un intero territorio. Come ovvio, si tratta dell'ennesimo colpo al comprensorio trapanese e al suo già debole tessuto economico. La tonnara, dunque, salta. L'azienda trapanese puntava a non meno di 80 tonnellate di quota tonno, quantitativo necessario per garantire la sostenibilità economica finanziaria dell'attività. Ma alla Sicilia sono andate appena 14 tonnellate, il che ha reso economicamente insostenibile l'impresa economica per la Castiglione, da dove hanno evidenziato come in nessuna azienda si possa permettere il cambio in corsa delle regole del gioco, augurandosi che in un prossimo futuro il Ministero abbia maggiore rispetto per chi invece non solo per profitto, ma per cultura, tradizione e occupazione. Elezioni provinciali rinviate al 2020, interviene il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che annuncia la presentazione di un nuovo emendamento. Il Parlamento, nella sua sovranità, scrive il Presidente della Regione, ha ritenuto di rinviare la data delle elezioni provinciali già fissata per il 30 giugno. Non posso in alcun modo condividere il posticipo di un anno delle elezioni di secondo livello e la permanenza di commissari, senza così dare possibilità alle comunità locali di essere coinvolte nella gestione degli enti intermedi. Per questa ragione il Governo proporrà un emendamento già nella seduta di martedì prossimo, ben prima che la norma approvata di ieri possa essere promulgata. Operazione della Polizia Marittima in area portuale di Trapani dei carabinieri sequestrati prodotti ittici. 26 kg di prodotti ittici congelati sono stati sequestrati dai carabinieri di Trapani e erano custoditi in celle all'interno di un'attività commerciale. Da un controllo è emerso che il prodotto era privo di ogni informazione a consumatore finale circa la provenienza e la tipologia del pescato. Lo stesso, inoltre, era conservato senza alcuna etichettatura. Il controllo, mirato a garantire la tutela di ogni fase del commercio di prodotti ittici, si è concluso con il sequestro e la contestazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro elevata nei confronti del proprietario dell'attività commerciale. Il pescato congelato è stato esaminato dal veterinario dell'Asp di Trapani, il quale lo ha dichiarato di donna al consumo umano e successivamente donato alle suore serve del Gesù povero di Trapani per destinarlo alle famiglie meno ambienti. Prima il furto e poi la richiesta essorsiva. Un uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri di Custonaci. Dammi 500 euro e ti ridò il vitello. La vittima della richiesta essorsiva però si è rivolta ai carabinieri che hanno arrestato Giuseppe Adragna, 69 anni, residente a Custonaci, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio. Dalle indagini è emerso che a rubare il vitello da un ovile di contrada a Torrebianca era stato lo stesso Giuseppe Adragna che poi ha contattato il proprietario per prospettargli lo scambio. Se non paghi, la minaccia subirà gli altri furti e danneggiamenti. Ma non è tutto perché i carabinieri indagando sull'attentata estorsione hanno anche scoperto che l'indagato è autore del furto commesso lo scorso mese di marzo di cavi di rame dall'impianto elettrico di una sticheria di Custonaci. Ora Giuseppe Adragna ha gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccio elettro elettronico.